Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, eccolo, è una gioia, tutti in piedi, veramente è una gioia, insieme al Ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, diamo il benvenuto, grazie. Grazie, il Presidente si sta fermando per salutare tutte le istituzioni, il Sottosegretario Baracchini, il Ministro Abodi, tanti bambini che fanno parte delle scuole, ringraziamo anche la Presidente della Regione, il Sindaco, tutte le istituzioni che sono qui oggi presenti. E allora, buon pomeriggio Presidente, buon pomeriggio Ministro, è un grande onore avervi qui oggi, iniziamo dunque con il nostro momento istituzionale e il nostro inno nazionale. Grazie a tutti. 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 Viene consegnato il guanto bianco al Presidente della Repubblica. Grazie a tutti. Grazie a questi ragazzi, alla grande forza, al loro messaggio incredibile, momento molto, molto bello. grazie a tutti. Grazie al Presidente Sergio Mattarella, grazie al coro delle mani bianche.